ciao a tutti nuovo video all sempre di vintage la premessa è come gli altri degli altri due che vi ho appena fatto scusate traballa tutto vi ho cambiato lo sfondo così vi rendete conto di quando cambia il video lo so questo è un cuscino quindi utilizziamo questo cuscino e vado avanti con il farvi vedere che cosa acquistato su vinted perché così poi vi faccio vedere gli spostamenti portate pazienza tutto portate pazienza tutto eravamo rimasti il vichingo la volta scorsa e se avevate avuto l'occhio un pochino lungo avete visto che sullo stesso bracciale ci sono un sacco di novità tra cui ma io seguo la mia lista perché se no mi perdo cioè non non seguo più non so più che cosa vi ho fatto vedere che cosa no questa è la novità è il pulcino pulcino prima primissima edizione prima ancora del pulcino quello solo faccia solo testa questo qua mi è piaciuto un sacco e non pensavo di riuscire ad averlo per quello avevo preso tutti gli altri pulcini perché era impossibile questo è quello che è all'interno dell'uovo sia un pochino strano perché riescono le zampe dall'uovo senza una rottura lo so però è dolcissimo perché come vedete appunto esce dall'uovo con le alette dritte con il cuscio sulla testa la faccina è molto 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 dolce anche l'espressione degli occhi è molto 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 dolce e sul retro è tutto liscio filettato super filettato e pieno 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 cioè guardate in confronto con questa clip con il cuore quanto è grosso 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 e pieno poi ho preso se avevate avuto appunto l'occhio lungo nel video scorso sul bracciale questo qua con che avevo dedicato all'autunno ho preso questi due nuovi open work per me nuovi gli open work con le foglie sono molto 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 autunnali e io ancora non li avevo presi uno è molto stilizzato diciamo più più grezzo con appunto queste foglie tutte traforate una da una parte non dall'altra che si incrociano e vanno a formare appunto questo open work open work perché ha una sfera forata dove all'interno si vede il bracciale e anche lo spessore vedete quanto spesso anche lo spessore della foglia è molto 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 grande poi questo quando l'avevo presa mi sembra che di due anni fa se non sbaglio hanno fatto questa altra versione un pochino più figatina con queste foglie più definite vedete la differenza sono più definite si vedono le venature e sono tutte incastrette tra di loro c'è la trama che si ripete però sono dei rami pieni pieni di foglie più realistiche diciamo e più lucido sicuramente più lucido e le foglie sono molto più sottili rispetto all'altro vedete il dettaglio sono molto 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 più sottili sono belle entrambe e niente li ho acquistati entrambi perché li volevo appunto abbinare insieme non so se resterà così poi anzi sicuramente non resterà così poi ho preso aspettate lui il castello questo qua è stata una botta 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 di fortuna la venditrice me l'ha spedito anche con la la garanzia l'ho pagato 12 o 15 euro ragazzi non lo so 12 15 euro non mi ricordo era proprio una sciocchezza e quando vedi queste cose diceva non posso non posso non posso lasciarlo lì lo so ho già preso l'altro castello quello pendente che è quello appunto nuova versione bitono questo qua questo qui dove stai tu qui questo qua è il remake praticamente di di questo è però niente a questo prezzo non potevo cioè non si poteva una tentazione nella ricerca delle cose vintage e quindi niente l'ho voluto prendere mi piace un sacchissimo un sacchissimo sul fondo c'è anche la sua coroncina in oro questo è oro con lo zircona con il cristallo rosa perché se colorato è cristallo e non so più come ecco qua questo qua è fatto così sotto a in alcuni c'è in altri no c'è anche un marchio aggiuntivo se ora lo trovo da questa parte insomma che indica anche loro sì c'è ma non lo vedo dal video aspettate perché non lo trovo non lo trovo e quasi sarebbe proprio un bel taglio lo so ragazzi lo so eccolo eccolo accolo 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 qua metti a fuoco te qua vedete g 585 che segnala proprio il marchio dell'oro della coroncina che c'è sotto poi oltre a lui quindi state attenti a ragazzi a questo qua perché non visti tanti fake tanti 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 fake la cosa importante che abbia sotto questo anche questo zircone cristallo cristallo non zircone rosa importantissimo poi lo vedete in tutte le salse ho preso lo specchio questo qua che anche lui sui gruppi di facebook tipo l'oro l'oro in sceso in terra questo qua l'ho pagato 10 euro tranquilli e bellissimo bellissimo perché come vedete sul retro a questa comunque aspetto molto molto vintage con questa decorazione a rilievo a fiore anche il manico dello specchio cioè guardate che dettagli stupendi e davanti lo specchio è brunito più basso rispetto al contorno cuoricino qua manico tutto decorato anche davanti e il marchio all'interno però non riesco a farvelo vedere ha questo anello con tutte queste mini borghettine è più di ve lo dico è molto lungo però è più secondo me quando mettono questo anellino qua come ve lo dico sempre lo intendono più come un ciarma da collana più che da bracciale però ci stava qua ci stava poi vediamo se rimane qua o se cambierà cambierà zona poi ragazzi continuo a farvelo vedere quindi ve lo faccio vedere e finisco di snoccelarvi questo mi sembra che il dinosauro ve l'ho fatto vedere già nell'altro video comunque ho trovato anche l'unicorno unicorno stesso discorso del castello l'unicorno anche il mio ha tutti i marchi quindi vedete c'è già anche g 585 perché perché l'unicorno ha il corno in oro ed è la prima prima versione non c'è bruno ciccione bruno elefante bruno mucca ma questo qua è proprio il classico unicorno il primo quello fatto proprio bene fatto a cavallino praticamente che è imbizzarrito no in piedi non so come si dice bellissimo la criniera tutta lavorata anche l'occhietto molto molto dolce è bello non c'è niente da dire unicorno vecchia versione non c'è niente da dire anche questo non pensavo di prenderlo però trovandolo a dei prezzi così scemi non si può 10 euro 15 euro non si può poi poi va davanti scusate un infinito mi spiace avervelo fatto ho preso a il pettine pettine perché ho fatto specchietto ho trovato anche lui pettine che ho già inserito su quest'altro bracciale sempre come vedete fa sempre parte della stessa collezione quindi abbiamo questo fioccone sull'anellino che va in su bracciale fioccone molto importante bello grosso e il pettine vedete non è un semplice pettine ma ha anche lui tutta la sua decorazione molto 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 vintage con quell'aspetto retro che ci sta molto bene su questi charm vecchi e che amo per questo quindi pettine poi o allora lo sto portando da un botto di tempo da quando l'ho ricevuto e dico la verità lo sto portando anche mentre sto facendo le pulizie lo so non dovrei ma lo so è il bracciale non so se mi seguite su instagram perché avevo fatto vedere il ci avevo messo una foto il bracciale starry sky che è questo qua non so se da noi mi è uscito sinceramente non lo so non sono non sono molto ferrata su questo solo che è un fuori produzione di tanti 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 anni fa l'ho trovato ad un prezzo stupidissimo perché era ossidato c'era aveva una macchia nera qua e tipo che l'ho pagato 20 euro 20 20 25 una cosa del genere molto molto bello con questa stella davanti incastonatura a forma di stella con questo zircone grande davanti appunto e sul retro invece a tutte queste stelline e in ogni stellina di dimensioni diverse in ogni stellina c'è incastonato uno zircone è meraviglioso è anche molto forte perché la chiusura è sferica quindi guardate molto 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 forte e niente non potevo lasciarlo lì fuori produzione non l'ho mai visto sinceramente qua in italia forse c'era ma quando mi sono avvicinata pandora non non c'è non era più disponibile la maglia del bracciale è perfetta proprio perfetta perché occhio anche lì l'ho visti tanti venderli con le maglie sformate un pochino la un pochino la ricetta perché sono usati però sformate o di addirittura rotte cioè 10 euro mi sembra anche un po troppo non acquistate bracciali rotti non acquistate bracciali con maglie troppo larghe un po larghi ci stavano troppo anche no poi dopo questo ho preso anche questo qua che cercavo da tantissimo tempo che è andato in saldo che comunque costava sempre troppo perché tipo cosa 25 euro in saldo niente ho preso ho preso lui la rosa dei venti la mia mitica rosa dei venti che faceva parte di una collezione estiva di quattro anni fa tra quattro anni fa questo è il marchio e il dettaglio qua con la il cuoricino inciso e brunito mentre lui è fatto così con questa penso che sia a vitro e non penso sia un turchese però tutto può essere assomiglia molto a turchese di di dicembre scusate ma penso che sia vetro perché in questa collezione avevano fatto tante cose con questa pietra azzurra ma penso sia vetro davanti appunto c'è la rosa dei venti e per contorno ci sono tutti questi cuoricini belli bombati sia davanti che di dietro mentre sul retro è una classica medaglietta liscia smaltata in bianco biancolatte con l'effetto un pochino brillantuso sul retro c'è l'incisione in minuscolo fall of your dream dreams bello molto molto bello e niente 15 euro ragazzi ve l'ho detto non voglio spendere più di 20 più di 20 per i bracciali quindi 20 25 per i bracciali non andrei oltre cioè a meno che non è una cosa fuori di produzione da tantissimo tempo che desideravo un sacco e non ho mai trovato però dopo inizia a essere troppo quindi basta e avanza perché l'offerta è molto ampia basta avere pazienza si trova le cose si trovano poi ho preso ancora vi faccio vedere l'ultimo il vestitino questo che era perfetto perfetto il vestitino fatto a tubino questo qua tubino con tutti gli zirconi e vedete allora l'anello è classico quello vecchio esattamente come e la fattura è identica come questo come il gelato vecchio vedete con le borchie grandi e borchette piccole e perché vi dico la fattura identica perché questo è quello che succederà al mio tubino cioè vedete il gelato di tutti i castoni del gelato che si sono sciolti sopra al pietre quindi alcune pietre si sono inglobate all'argento non le ho perse sono all'interno alcune erano rosa e alcune più bosca più basse erano bianche e è successo questo succede la stessa cosa anche con la scarpa con il tacco vecchio tacco 12 dovrebbe esserci succede la stessa cosa e questa qua fa parte della stessa collezione quindi perché vi dico questo perché ancora perfetto perché ancora perfetto cioè non non ha avuto questa cosa di lasciato lo scioglimento dei castoni sulle pietre vedete appesi appena qua un pochino però ho visto anche di peggio e questa ragazza me l'ha venduta 13 euro 13 13 euro ma mi piace un sacco qua tutto il dettaglio del vestito come hanno fatto quale angolazioni del degli zirconi con i castoni la cintura che è differente ancora sono tutte piccolezze appunto che si notano e vabbè verrà un pochino perso man mano che si porta e il vestito è attaccato a gruccia vedete una gruccia con l'anellino è molto 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 bello e poi è molto rappresentativo per me quindi dovevo prenderlo ragazzi sono arrivata a 15 minuti io mi fermerei qua e penso che il prossimo se non dovrebbe essere l'ultimo se forse è l'ultimo quindi ci vediamo nel prossimo video vinted ciao